Il commissario Staffa, l'amministra, le chiedono se è soddisfatto del gioco espresso, soprattutto avevamo detto che si aspettava di più da Laurato e se è soddisfatto della sua prova. Mi sembra che Laurato sia stato tra i migliori in campo, a parte il gol, ha preso la traversa, è stato sempre pericoloso. Abbiamo in settimana studiato con lui un modo di giocare diverso da quello delle partite precedenti e mi sembra che questa posizione lui la prediliga e quindi abbia tirato fuori tutte le sue doti. Quindi l'avamo postato in questo modo la partita? Sì, lui sapeva in settimana che io gli avrei dato una posizione in campo che mi avrebbe fatto vincere la partita. Lui all'inizio non ci credeva, ma spero di avergli fatto cambi idea. Invece per quanto riguarda la fase difensiva, continua a fare bene, la compattezza è un aspetto che può essere importante anche per iniziare a fare bene in trasferta. Sì, sono molto contento, ogni tanto c'è qualche piccolo errore, ma mi sembra anche normale che durante una partita ci possa essere qualche sbavatura. Però se continuiamo su questa strada, piano piano sarà sempre più difficile a disinarsi alla porta nostra. Ecco, prossima partita contro il Kregas, secondo lei qual è l'inizio maggiore che nasconde questa partita? Perché comunque sappiamo tutti che il Kregas è una squadra dalle buonissime potenzialità. No, c'è delle potenzialità, intanto da due o tre anni che c'è dei giocatori fortissimi, ha preso dei top player della categoria, anzi anche di Serie D. Quindi punta direttamente a vincere il campionato, è chiaro che sarà una partita molto difficile, ma penso che sarà molto difficile anche per loro.